Ho ritenuto opportuno comunicare con un video messaggio il numero dei medici malati presso l'azienda ospedaliera Cardarelli che io dirigo in qualità di direttore generale. Dei 739 medici in servizio presso questa azienda, 16 medici lavorano nei dipartimenti assistenziali mentre 17 di loro lavorano nel Dipartimento di Emergenza e Accettazione. I medici del Dipartimento di Emergenza e Accettazione sono quelli che in prima battuta fronteggiano i pazienti affetti da Covid-19. Dei 17 medici malati del Dipartimento di Emergenza e Accettazione, 4 sono affetti da patologie di lunga data, patologie croniche e gravi, altri 4 invece sono risultati positivi al tampone, al test per Covid-19. Quindi in realtà i medici che in prima linea sono chiamati a fronteggiare l'uridemia da Covid-19 ammalati in questo momento sono 9. A tutti e 3.200 dipendenti di questa grande azienda e che tutti i giorni sono al servizio dei pazienti va il mio più forte ringraziamento.